Benvenuti a questo nuovo incontro con l'autore. Oggi ho il piacere di avere qui in studio con me il dottor Valerio Cirio. Benvenuto dottor Cirio e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a voi. Siamo qui per parlare della sua ultima produzione, Giardini e Ville del Lago d'Orta. Il pubblico da casa lo sta vedendo alle mie spalle e mi rivolgo subito a lei per chiederle un po' come è nata questa sua esperienza che credo coincida anche con una sua passione e attenzione al territorio. Sì, sicuramente una passione per il territorio e soprattutto per la regione dei laghi, dove il Lago d'Orta ha un posto predominante. Anche perché recentemente è stata fatta questa trasmissione, Linea Verde, dove parla appunto di Novare del Lago d'Orta e considera alcuni punti del Lago d'Orta, alcune emergenze del Lago d'Orta molto significative come Sacromonte e l'isola di San Giulio. Questo libro nasce da un convegno che avevo partecipato nel 2018, che si chiamava Salus in Orto, i benefici del giardino sulla salute. E poi ho dovuto fare gli atti del convegno e mi avevano richiesto 20 cartelle. Quindi non ho potuto mettere tanti giardini e tante ville. E allora ho parlato con questa amica che è Daniela Piazza, editore di Torino, che ha una tradizione di libri sui giardini e anche su Casa Savoia e sulla cultura piemontese. E gli ho proposto questo libro sui giardini e le ville del Lago d'Orta. Ed è uscito, dal 2018 fino all'uscita, è uscito nel 23, ho raccolto tantissimo materiale. E ho trovato delle realtà veramente eccezionali. È stato un viaggio, un viaggio alla visita di questi giardini, di queste ville e dei proprietari, che effettivamente è un mondo veramente molto affascinante. Ci sono dei giardini che sono completamente sconosciuti, ma sono bellissimi. Posso citarne qualcuno, ossia il libro considera 117 tra giardini e ville. Giardini, sono partito appunto dal Sacromonte, perché il Sacromonte è un giardino dello spirito. E poi ho affrontato altri giardini, quale, facendo il periplo del lago, diciamo, non so, Villa Crespi. Villa Crespi che ha un giardino di un certo interesse. Tutti sanno che Villa Crespi è stata costruita alla fine dell'Ottocento, del Benigno Crespi. Cotoniere, industriale, imprenditore nel ramo del cotone. Poi ha subito parecchi passaggi di proprietà e adesso fa riferimento a Antonino Cannavacciuolo, che è una personalità di fama internazionale. Poi ci sono altri giardini, sempre a Orta, vicino proprio a Villa Crespi, c'è il Villa Cardini. Villa Cardini ha un bellissimo giardino. Villa Cardini è stata fatta alla fine dell'Ottocento da Carlo Cardini. Carlo Cardini era un imprenditore che era emigrato in Argentina, è ritornato in patria in Italia e ha voluto costruire questa villa e questo giardino. C'era un problema. Questo giardino si trovava sulle terre di proprietà del capitolo di San Giulio. Che erano state espropriate con la legge Siccardi. Nonostante che sulla testa di Carlo Cardini cadesse così la scomunica, lui ha acquistato questo terreno e ha costruito la villa. Questa villa è molto interessante, è a monoblocco, e presenta questo parco all'inglese con magnoglie, con tantissime specie arboree. C'è un particolare molto interessante perché Carlo Cardini aveva sposato la nipote del canonico Fara, donna molto religiosa, e così per tacitare appunto le proteste della moglie ha fatto costruire vicino all'ingresso della villa questa cappelletta con la crocifissione di Cristo. Ed è molto interessante. Se si passa della vecchia strada che comunica praticamente Villa Crespi al centro di Orta, si può notare l'ingresso con questa cappelletta appunto. Poi altri giardini sono, non so, il giardino di Casa Valle ad Armeno, il giardino della Casa dei Padri, che un tempo era la casa, Casa Badanelli, famiglia molto importante di Armeno, erano armatori anche, e avevano anche delle proprietà in Spagna dove producevano un ottimo vino. Poi sempre ad Armeno troviamo la Casa Vacanze, ora Casa Vacanze Anna Giuliana Boroli Drago. Questa casa era originariamente la casa Boroli, ossia la casa storica della famiglia Boroli. Poi è stata assegnata appunto alla fondazione di Agostini, dopo una serie di restauri e di sistemazioni, e adesso ospita ogni anno minori con situazioni problematiche per dare la possibilità di passare così il periodo estivo in montagna, insomma. Altre ville e altri giardini. C'è un giardino molto affascinante, che io ho trovato veramente qualcosa di notevole. Innanzitutto volevo segnalare una cosa, perché è l'unico giardino aperto nel Cusio, che è il giardino di Casa Lorella, che si trova a Vacciago. Vacciago è questa incantevole frazione di Ameno, e nel 2021 è stato aperto questo giardino, che è stato sistemato tra l'asolo da Gianfranco Giustina, che è stato curatore dei giardini delle isole Borromee, è stato insignito di un prestigiosissimo premio dell'Orticultural Society di Londra, ed è stato aperto appunto, è stato aperto al pubblico, e si può accedere, ed è incantevole, perché si vede il lago d'Orta, poi si vede l'isola di San Giulio, il Sacromonte, e il santuario della Madonna del Sasso. È un giardino che è godibile tutto l'anno, perché in primavera ci sono le cameglie e i rhododendri, in estate ci sono le ortensie, e in autunno c'è questa esplosione di colori, che io sono capitato un giorno dove c'era un cielo terzo, e questi colori autunnali, questo foliage, messo insieme all'azzurro del lago, all'azzurro del cielo, è veramente qualcosa di notevole, di eccezionale. Questo giardino è di riferimento della famiglia Lorella, una famiglia molto antica, le prime notizie sono della seconda metà del Cinquecento, legata anche al santuario della Madonna della Bocciola, che è lì vicino, perché ci sono stati parecchi, anche lasciati della famiglia Lorella, al santuario della Madonna della Bocciola. La interrompo solo un attimo per una curiosità, perché sentendola parlare ci prefiguriamo un po' questo meraviglioso percorso. Lei ha detto che il giardino, ad esempio, di Casa Lorella è aperto, mentre è possibile vedere gli altri giardini, magari in momenti particolari dell'anno? La maggior parte dei giardini è privata, quindi non tutti è possibile visitarli. Per ora li sogniamo col suo libro, allora. Si possono visitare il giardino di A.A.Meno, che è di fronte a Palazzo Tornielli, perché è di proprietà del Comune. Poi è visitabile durante la giornata delle dimore storiche. Quest'anno, ad esempio, è stato aperto il giardino di Villa Motta a Orta, il giardino di Casa Bettoia a San Maurizio do Paglio, e il giardino, se non sbaglio, della ditta Fantini, che è un giardino molto interessante. Tutte e tre sono molto interessanti. Il giardino Motta è interessante perché ha una collezione di camellia, tra le più importanti d'Europa, ed è privato, ovviamente, della famiglia Motta. e quest'anno è stato possibile visitarlo, perché l'hanno aperto durante questa giornata delle dimore storiche italiane. Poi citavo appunto il giardino della ditta Fantini, che è stato progettato da Paghera, ed è molto interessante, molto... un'emergenza veramente notevole del Cusio, perché è stata fatta un'operazione molto interessante. nel senso che la famiglia proprietaria, che è appunto la famiglia di imprenditori Fantini, ha fatto restaurare i vecchi capannoni da Piero Lissoni, che è questo archistar famosissimo in tutto il mondo, insomma, e si integra perfettamente con l'ambiente naturale, cosa molto difficile a pensare che un'industria si possa integrare nel paesaggio del Lago d'Orta, invece Lissoni ha fatto veramente un'opera notevolissima. Quindi questo giardino purtroppo è legato alla ditta, quindi non è possibile visitarlo, tranne in alcune occasioni, ad esempio per la giornata del FAI, quest'anno è stato aperto. Quindi bisogna avere un po' la costanza di seguire i canali di informazione per sapere quando è possibile vedere questi giardini. Io le chiedo ancora una cosa, visto che ormai siamo quasi in chiusura. Trappela dalle sue parole una grande passione, che è quella della ricerca del lago, della bellezza di questi luoghi. Adesso il libro è stato pubblicato da qualche tempo. Quali sono le risultanze che le sono arrivate? Che cosa prova la gente quando legge appunto la sua narrazione su questi giardini e ville meravigliosi? Dunque il giardino è stato pubblicato a marzo, aprile, se non sbaglio. Le prime impressioni sono positive, però diciamo che siamo ancora agli inizi, perché non ha ancora parlato praticamente nessuno. È uscito semplicemente in libreria, ma non ci sono state ancora recensioni. E quindi chi mi ha telefonato, alcuni proprietari mi hanno telefonato con parole così molto generose anche. Ovviamente la cosa mi ha lusingato e mi ha fatto molto piacere. Anche perché il Cusio si dovrebbe porre come lago dei giardini, come succede per il Lago Maggiore, con Villa Taranto, ma anche con i giardini delle isole, delle isole Borrome, con il giardino di Villa Pallavicine, e con altri giardini. E soprattutto è anche il Lago di Como, che ha dei giardini strafitosi, come quello di Villa Melzi de Rille, che è veramente eccezionale. Beh, allora io devo ringraziarla duplicemente. Il primo motivo di ringraziamento è di aver scelto noi per condividere la bellezza di questa sua avventura letteraria, perché come diceva siamo proprio agli inizi, quindi per noi è un grande onore, un grande piacere averla qui, e poterlo ospitare e condividere con il nostro pubblico, appunto, giardini e ville del Lago d'Orta. Il secondo motivo è il viaggio che ci ha permesso di compiere attraverso le sue parole, attraverso l'immaginazione, e attraverso appunto questa passione che unisce lei e molti dei telespettatori, ma è compresa. Per cui io la ringrazio davvero, mi auguro che ci possa poi essere un'ulteriore occasione di incontro, e spero che questa sua ricerca possa proseguire. Cosa mi dice su questo? Possiamo chiudere con un'anticipazione? Sì, ossia, settori di interesse ce ne sono parecchi, ad esempio ci sono anche i giardini di pianura, ad esempio c'è il giardino, non so, il giardino del castello di Caltignaga, il giardino dell'Opera Pia che c'è a Sozzago, che non ricordo più il nome, però è stato ristrutturato recentemente da Massimo Semola, dell'architetto Massimo Semola, che è uno specialista appunto nella progettazione dei giardini. Poi ci sono altri giardini, quello di Villa Picchetta, che è stato sempre così ristrutturato dall'architetto Massimo Semola, e vale veramente la pena di fare un salto, perché è veramente notevole come esperienza. Allora io l'aspetto qui, nella speranza appunto di poterla ospitare parlando di giardini o di altro, a seconda di quello che poi lei continuerà ad approfondire, e la ringrazio davvero di cuore per questa condivisione. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.